La nostra vita si sposta online, ora tutto avviene in rete, un sovraccarico che mette alla prova le infrastrutture del web. Giacomo Segantini. Più di un terabit, cioè mille miliardi di bit, al secondo dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il traffico dati in Italia osserva picchi mai visti, con un intasamento particolare nelle ore serali, momento dello svago, serie in streaming e videogiochi. Osservati speciali, quei titoli sempre affamati di aggiornamenti che spopolano tra i giovani. Risultato, alcuni rallentamenti, ma la rete per ora tiene. Elemento non trascurabile in questa nuova normalità in cui schermo e connessione diventano indispensabili per interfacciarsi col mondo. In rete ci si vede, con le videochiamate, si lavora grazie allo smart working e ci si approvvigiona. I servizi di spesa online della grande distribuzione scricchiolano sotto il peso di migliaia di nuovi ordini, con tempi di consegna inevitabilmente allungati. E brillano app come la spagnola Glovo, i cui rider acquistano e portano qualsiasi cosa, soprattutto medicine. Siamo chiusi in casa, ma non abbiamo chiuso il nostro cuore sui siti di crowdfunding e boom delle donazioni agli ospedali. Possiamo pregare insieme, tanti preti come Don Giacomo che dicono messa in streaming, e socializzare, magari alla vecchia maniera, giocando online a bridge, briscola e burraco. E per il terzo giorno conseguente... Grazie a tutti.